Viareggio con la sua nautica ne produce una buona parte di tutta la produzione italiana. Il governo deve stare vicino a queste eccellenze. Dal mio punto di vista, come responsabile del Ministero delle Infrastrutture, finalmente dico abbiamo sbloccato un qualche cosa che doveva essere già vivo da anni. Sto parlando dello STED, che è un sistema unico, telematico, per cui finalmente non ci saranno più dei furbi che magari cercano di vendere una stessa imbarcazione da riporto per due volte facendo le classiche truffe che sono accadute molto spesso, ma con la registrazione telematica non ci saranno più le truffe, ci sarà maggiore sicurezza, ci sarà maggiore controllo e la trasparenza serve anche e soprattutto agli imprenditori che portano avanti questa straordinaria eccellenza italiana.